Ci sono un sacco di iguane a Miami Beach e Miami in generale, devi stare molto attento nei giorni in cui fa freddo a non passare sotto gli alberi perché si dice piovono iguane, che dici ah Farida no, piovono iguane veramente perché loro si congelano e quindi cascano ovviamente se ti cade un iguane in testa Non è carino Ti ammazza E poi a quanto pare si risuscitano da sole, a meno che faccia proprio un freddo atroce State attenti al pioggia di iguane